Si avvicina il giorno di pagamento delle pensioni. Da lunedì 27 luglio verranno accreditate le pensioni del mese di agosto per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco posta o di una posta e pay evolution. I titolari di carta potranno prelevare i contanti da oltre 7000 ATM posta mat senza bisogno di recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti nell'ufficio postale dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la tornazione alfabetica prevista dal calendario. Lunedì toccherà a chi ha un cognome con l'iniziale A o B, a seguire martedì dalla C alla D, mercoledì dalla E alla K, giovedì dalla L alla O, venerdì dalla P alla R e sabato 1 agosto dalla S alla Z. Come ricordano da poste italiane i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i carabinieri. Dunque è importante recarsi agli sportelli soltanto se strettamente necessario. In questo caso ciascuno è invitato a indossare la mascherina, a entrare in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti a mantenere la distanza di almeno un metro sia in attesa all'esterno che nelle sale aperte al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito poste.it o contattare il numero verde 800 003322.